Io la vedo, una giovane valcina. Erengard. Erengard. Cielo, che pomposo charlatano. Signor Casotti, ci serve il vostro aiuto. Il principe Lothar deve prendere moglie il prima possibile. In caso contrario, il trono passerà al cugino di mio marito. Avrete la compito di stimolare la passione del giovane principe. Qual è il vostro prezzo? Erengard. Cielo, voi intendete sedurla? Ma la seduzione richiede pazienza. Vogliono che io mi sposi. E voi non volete. Erengard? Una famiglia inflessibile. Così ne passo. E così i giorni passano. E io faccio piccoli progressi. Avete puntato troppo in alto, signor Casotti. Non è un giovane affascinante. E adesso immaginare. Vi unite. Sì, perché no? Bene, allora, com'è? È come una rosa? Li state arrampicando sugli specchi adesso. L'incarnazione dell'amore vero. Voi parlate molto, ma dite poco. Lo sapevate?